Cardo Bonucci ormai in rotta con la Juventus si trasferirà all'Union Berlino è stato trovato l'accordo per portarlo in Germania squadra che gioca la Champions League nell'anno in cui la Juventus non la farà per l'esclusione dalle coppe recente sbarcherà in Germania stasera partenza ore 17.30 da Ciampino e finalmente è fatta la Juventus finalmente si libera di un esubero che ormai aveva rotto con la Juventus non aveva più legame con la Juventus e quindi è andato via allora andremo a parlare di questa operazione di mercato in questo video per il tutto like, commenti, inizioni, condivisione e campanellina che sono delle cose importantissime ma che voi ci mettete poco per farle quindi fatele che vi costano poco e con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi quindi che aspettate fatelo e se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti su Bonucci in un berlino allora per me è un'operazione giustissima è un'operazione giustissima perché comunque Bonucci non entrava più nei progetti della Juventus nonostante lui volesse restare alla Juventus ed era pronto anche ad andare alle vie legali pur di restare in bianconero ma il club non gliel'ha permesso il club non gliel'ha permesso gli ha detto di trovarsi una nuova sistemazione si era fatto sotto la Lazio si era fatto sotto l'Union Berlino squadra che entrambe giocavano la Champions e si era fatta sotto una clamorosa ipotesi Genoa una clamorosa ipotesi Genoa alla fine lui sceglie l'Union Berlino una scelta perfetta squadra che in Germania l'anno scorso aveva sorpresa non tanto ma tantissimo arrivando in Champions League quando nessuno non se l'aspettava cioè comunque aveva una bella squadra ma non nessuno se l'aspettava in Champions League ed eccoli qua l'Union Berlino degli italiani se vogliamo dopo Gosenz anche Bonucci per me è un'ottima per me ci guadagnano entrambe perché comunque la Juve si libera di un ingaggio non pesante ma pesantissimo e di un giocatore che ormai era stato messo ai margini del progetto nei margini della Rosa invece lo giocatore rimane comunque in Europa rimane ad alti livelli e giocherà alla Champions League comunque io vedo che ci guadagnano entrambi ci guadagnano entrambe le società l'Union Berlino avrà un giocatore di esperienza e la Juventus pagherà parte dell'ingaggio pagherà i 3,5 milioni l'ordine mentre il resto dello stipendio di Bonucci lo pagherà l'Union Berlino è inserato a terra in Germania e poi sarà pronto per le vis demetiche per me operazione che va bene ad entrambe per i motivi spiegati prima comunque andiamo a dare i voti a questa operazione di mercato voto rapporto qualità calciatore gli do un 8 perché comunque per l'Union Berlino è un giocatore di esperienza che può portare esperienza per la prossima Champions League voto rapporto qualità prezzo un bel 7 la Juventus si libera di un super importante di un ingaggio importante e adesso può provare a comprare qualcuno visto che la loro sessione di mercato è stata veramente non dell'utente ma molto molto dell'utente comunque questa è la mia opinione su Bonucci che è un nuovo giocatore dell'Union Berlino se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti lasciate un like, commenti, sezioni, condivisione e campanellina che sono importanti per il supporto del canale e noi ci becchiamo con un prossimo video stasera bella ragazzi e noi ci becchiamo con un prossimo video stasera